Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Il contest per i 400 iscritti Ragazzi, io ho già fatto un contest per i 300 iscritti che però alla fine non ho più detto i vincitori Perché? Hanno partecipato pochissime persone a quel contest ma c'è comunque una motivazione Il contest chiedeva un video sull'iPhone mentre adesso, solo adesso, mi rendo conto che non tutti possiedono un iPhone quindi non tutti, anche se lo volevano, non hanno potuto partecipare a questo contest Quindi, sto prendendo esattamente questo qua per fare un nuovo contest che la maggior parte di voi potranno fare a cui potranno partecipare Allora, le regole di questo contest sarebbero la prima di iscriversi al mio canale e comunque ricambio, scrivetemelo nei commenti, lì sotto Poi, pubblicare un gameplay di qualsiasi gioco che potete decidere ragazzi di un qualsiasi gioco io poi deciderò i tre migliori e adesso vi dico i premi un attimo e questo video non deve durare più di 10 minuti e inoltre dovete mettere mi piace a questo video Allora, i vincitori la persona al terzo posto vincerà praticamente non mi viene il nome pubblicizzerò il suo canale nei commenti del mio canale ovvio ad esempio commenti e lo farò per tre volte a scelta della persona ad esempio visitate il canale canale di Pinco Pallino Pallino virgola A E Iscritti E Pubblica Video al secondo puntini puntini poi farò altro come ad esempio vi consiglio vivamente di scrivervi e robe del genere e questo qua per tre volte di fila il secondo invece vincerà una pubblicizzazione del genere ovvero in un mio video comunque a scelta di questa persona ben due volte consiglierò il suo canale alle persone che guarderanno il video e io sinceramente chiederei cioè sinceramente vi consiglio che se siete i secondi di dirmi di pubblicizzarvi in un video che pensate che farà successo così almeno parecchie persone lo vedranno e si iscriveranno al vostro canale invece al primo posto una pubblicitazione forever ragazzi vi pubblicizzerò qua in che senso andiamo su modifica come ho fatto qua guardate ad esempio qua Luke il mago di Minecraft ci clicco sopra ed eccoci qua sul canale di Luke oppure qua che comunque vi consiglio anche lui il miglior moddario di Minecraft che si chiama Rapa Games molto bravo e automaticamente ci troviamo nel suo canale questa cosa per sempre ragazzi quindi io direi che potete partecipare a questo contest perché ne valerà assolutamente la pena e mi dovete mettere ovviamente il video che farete nei commenti come video di risposta vi ricordo di mettere mi piace e di iscrivervi che io li cambierò e inoltre il video non deve superare una durata di 10 minuti di qualsiasi gioco che volete ci vediamo nel prossimo video spero che parteciperete e ciao